Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Se siete nuovi mi invito a iscrivervi e attivare la campanellina in modo tale da rimanere sempre aggiornati quando usciranno nuovi video. Oggi quello di cui voglio parlarvi riguarderà la somma di forze su un corpo rigido. Innanzitutto vi voglio dare una piccola definizione di corpo rigido o corpo rigido esteso. Per fare un riepilogo possiamo dire che il punto materiale è una semplificazione della realtà, però ovviamente se devo rappresentare una situazione molto più ampia o comunque una realtà di dimensioni molto elevate mi devo rifare appunto al corpo rigido esteso. Il corpo rigido esteso è il modello di un corpo reale dotato appunto di estensione perché avrà una dimensione molto molto elevata e quindi non sarà possibile ridurlo ad un punto materiale. Quindi se vogliamo prendere proprio un esempio per capire a meglio che cos'è un corpo rigido esteso possiamo prendere in considerazione ad esempio un ponte con tantissime persone al di sopra. Quindi questo non lo possiamo rappresentare con un punto materiale bensì con un corpo rigido esteso. Inoltre nella definizione possiamo anche aggiungere che questo corpo rigido esteso sarà sottoposto all'azione delle forze ma non subisce deformazioni proprio perché essendo talmente elevato di dimensioni quindi essendo talmente esteso una piccola forza non mi farà deformare tale corpo rigido. Quindi vista questa piccola definizione passiamo invece a vedere la somma di forze che agiscono sul corpo rigido. Queste possono avvenire in vari modi. Andiamo a vedere il caso 1. Nel caso 1 così come potete vedere dalla figura possiamo vedere che abbiamo una persona a sinistra una cassa e una persona a destra. Entrambe le persone stanno spostando la cassa verso destra. Quindi abbiamo entrambe le forze che avranno lo stesso verso e la stessa direzione. Quindi il caso 1 quando abbiamo stesso verso e stessa direzione. Quando abbiamo questo tipo di forze allora la loro somma la dobbiamo fare tramite i vettori ovvero abbiamo forza 1 più forza 2 dove dobbiamo far coincidere alla punta del primo vettore la coda del secondo in modo tale che la somma di queste due forze sarà proprio l'intero vettore che uscirà fuori. Infatti possiamo anche scrivere che la forza totale sarà data direttamente da forza 1 più forza 2. quindi con la somma vettoriale. Andiamo a vedere invece il caso 2. In questo caso seconda figura possiamo vedere che abbiamo sempre la cassa con due persone ma in questo caso entrambi lo staranno tirando verso destra ma avranno appunto direzione diversa perché non si troveranno sulla stessa retta d'azione. Quindi in questo caso la loro somma quindi la somma di questi due vettori si dovrà fare con la regola del parallelogramma. Abbiamo questo che sarà appunto la forza 2 poi abbiamo la forza 1 di qua e quindi dobbiamo fare la regola del parallelogramma. Per sapere la forza totale è la direzione in cui appunto la cassa si starà spostando. Questa sarà la forza totale. Invece ora andiamo a vedere il caso 3 dove possiamo vedere in questa figura che le due persone stanno spostando la cassa verso il basso dove la forza 1 sarà più piccola mentre la forza 2 sarà più grande. Infatti in questo caso parleremo di forze parallele e concordi perché avranno appunto lo stesso verso. Infatti in questo caso abbiamo forza 1 e poi forza 2. In questo caso quindi quando abbiamo forze parallele e concordi dobbiamo rifarci anche alla distanza. Infatti il punto in cui queste agiscono sarà proprio qui. Infatti la forza totale si troverà più vicino alla forza maggiore dove abbiamo che questo sarà la distanza 1 mentre quest'altro pezzettino la distanza 2. Mentre come dicevo la forza totale si deve trovare vicino alla forza maggiore e sarà dato semplicemente dalla loro somma ovvero forza totale è uguale direttamente forza 1 più forza 2. Possiamo vedere che avrà lo stesso verso sia di f1 che di f2 e come dicevo il modulo sarà semplicemente la somma dei due moduli. Per trovare questo punto ovvero io lo vado a chiamare punto c in cui voi dovete posizionare perfettamente la forza totale lo possiamo fare con una proporzione ovvero forza 1 sta a forza 2 come d2 sta a d1. Negli esercizi infatti non vi vengono date tutte e quattro le cose e quindi tramite la risoluzione di questa proporzione voi potete trovare la distanza ad esempio di 1 o di 2 rispetto a quella totale per trovare la posizione precisa di questo punto c dove andare a posizionare appunto la forza totale. Infine andiamo a vedere l'ultimo caso che sarà molto simile dove abbiamo sempre forze parallele ma in questo caso saranno discordi ovvero avranno verso opposto infatti anche in questo caso dal disegno possiamo vedere che una persona sta spingendo la cassa verso l'alto mentre l'altra verso il basso infatti facciamo sempre di lato il nostro disegno questa è la mia cassa dove abbiamo qui la forza 1 che sarà più piccola e andrà verso il lato mentre la forza 2 che sarà maggiore andrà verso il basso in questo caso la forza totale si troverà sempre vicino alla forza maggiore ma sarà esterna quindi ad esempio la facciamo così e sarà data appunto dalla differenza tra la forza maggiore e la forza minore ovvero scriviamo forza totale è uguale a f2 meno f1 e avrà lo stesso verso della forza maggiore anche in questo caso andiamo a fare le distanze ovvero tutto questo fino alla forza totale sarà d1 mentre dalla forza 2 fino alla forza totale sarà d2 anche in questo caso il punto c dove andare a posizionare la forza totale voi ve la ricavate sempre dalla stessa proporzione ovvero f1 sta a f2 come d2 sta a d1 non vi dimenticate che i medi così come gli estremi devono avere lo stesso numeretto ovvero lo stesso pedice bene quindi per oggi noi terminiamo qua io spero che sia tutto chiaro e che questo video vi sia piaciuto se avete qualche proposta o qualche esercizio in particolare da voler vedere riguardante appunto la somma di forze su un corpo rigido scrivetelo pure nei commenti così che io possa aiutarvi non vi dimenticate anche di attivare la campanellina in modo tale che sarete avvisati quando usciranno i nuovi video noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo argomento ciao ciao